Qui a Lesa, sul Lago Maggiore, provincia di Novara, invitato dagli organizzatori della Lesa Cup, 25 mila dollari maschile più ospitalità, molto incuriositi per la formula innovativa lanciata dalla regione Abruzzo e dall'assessore allo sport Guido Liris, di coniugare sport e turismo con il circuito Tennis Tour Lava Abruzzo. In effetti c'è un grande interesse da parte delle amministrazioni perché anche in questi momenti di difficoltà legata alla pandemia Covid può essere un meccanismo da replicare in altre regioni. In tal senso c'è stata una dimostrazione di interesse da parte della regione Piemonte e Lombardia con alcuni rappresentanti qui al torneo di Lesa e con l'augurio che per il 2022 l'Abruzzo possa essere ancora più forte in questo circuito Tennis Tour Lava Abruzzo.